3 2 litiganti roberto arriva via nessun nemico colpito oddio mi sono fatta ora da sola John Wayne è una nuova zona sicura no mi sono incastrata il joy si cazzo volevo fare lo slide con adrenalina mi sono incastrata ragazzi questa mattina sono sette volte che arriva seconda nessuno lo usa non fa danno qual è l'assalto nuovo ragazzi illustratevi per favore che sono un po babba ciao cristian buongiorno eccolo qui il mitico raimondo raimondo ho regalato delle sub alla chat anzi sono state regalate quante sub 6 7 7 sub e provo a vedere se per caso ne hai riscattata una tutti quelli che non hanno la sub però vado a vedere oh quello che spara il laser ragazzi non fa danno ma che cos'è io l'ho raccolto da terra sembra tipo un gioco per bambini piccoli cristian grazie per la condivisione ciao giuseppe nicolai buongiorno ciao oscar allora dopo c'è andrea e chi altro gioca io devo fare un caffè no ma te lo volevo regalare io vai chill vai chill solo se te l'avevo regalato e se fa buio sapete cosa sarebbe diciamo molto più divertente più figo pare che in base all'orario uno ha il tempo o per lo meno che sia il terri giorno e notte sarebbe fichissimo buongiorno alessandro alessandro è senza sabba le ho regalato delle sabba la chat per lo volevo regalare sempre è puro caso di rima del regalo è puro caso di rima del regalo ciao lupone grazie per il like ciao lupone grazie per il like no peccato ragazzi perché le ho regalate queste sabba ma non sono arrivata che sta a spavolo ma speriamo di regalo un'altra poi se qualcun altro la vuole regalare con me benvenuto rimanete in chat per favore dai eh è arrivata è arrivata dai che ve la prendete dai che te la prendi suuuu vengo qui quella è la destinazione ritorno al gas è troppo pericoloso correte verso la zona sicura lupone grazie per accedere la priorità è uscite tutti i nemici all'attacco nemico in arrivo nell'area avvicinate quell'area immediatamente non è velo non ciò non ciò non ciò non ciò marco bella me lo facevo no peccato ti ha provato ma tu qua con me devi scendere ma ma che cosa è halloween raimondo la preta sono contentissima si fa felice questa cosa si fa felice wow che bella cassa che ho trovato ragazzi no quello è uno zombie tu pure qualcuno mi ha dato una puzzetta ragazzi coprite il schiato sta arrivando un nemico attenzione in alto ragazzi in avvicinamento nuova zona sicura sta arrivando un nemico attenzione in alto attenzione in alto attenzione in alto attenzione in alto miglioriamo l'attrezzatura c'è un soldato nemico rimangono 24 nemici uccidili tutti ho ill'odio ragazzi perché non lo prendo? non lo prendo che faceva bravissimo bravo non dovevo rimanere lì ferma buongiorno buongiorno grande Arthur sono contenta che l'hai riscattata ciao Italo salvo buongiornissimo non mi ero data la mitraglietta guys I don't know I don't know oh oh ascenta di scuola è una nuova zona sicura è un soldato la Piazza ha dissi sono un soldato la Piazza la Piazza un soldato ma la Piazza la Piazza la Piazza va a chiedere tutti i campioni proprio eh è rubare ragazzi così non va bene non si muore così me lo fate a casa mi raccomando no non l'ho ricaricato che babba cedda che sono cicci kitten adriana buongiorno ciao alessio salvo come stai posso uccionale uccionale un soldato nemico è un soldato nemico non è 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 Siete rimasti in dieci! Forza! Bombardamento di precisione nemico! Bombardamento di precisione nemico! Giù! Stingas vi è quasi addosso! Siamo tutti sotto, ragazzi, secondo me. Ultimi cinque! Resistiti in uno! Dove stava questo? Ok! Allora, Andrea, prego, si accomodi. Non la vedo online. Per qualsiasi sub che vuole giocare, ragazzi, c'è posto! Eccolo qua, ti vedo ora. Oh, stamattina i ragazzi dormono tutti, magari. Ok, ti ho invitato, ragazzi, ho un bug delle richieste d'amicizia, quindi se qualcuno per caso mi ha aggiunto... Purtroppo non è cattivaria, ma non posso più accettare le richieste. Proprio un bug. Oh, oui. Buongiorno, caro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e la buon'ora, possiamo dire, Andrea. Eh, ma io da stamattina che ti aspetto. Oh, Carlos. Come va? Massimo, solo io e te? Non c'è nessun altro. Solo io e te, caro. Vabbè, Ale, vieni, non ti preoccupare, tanto non c'è nessun altro sub. Fai i cagoli e cuffie, Andrea. Ancora. Non ti fare questi problemi. Così va bene. Audio, audio. Forse sì, dai, forse però, eh. Forse, forse. Gaglio troppo, troppo, no. Va bene, va bene, Ale. Quando ci sei online, dimmelo, che ti invito. Andrea. Che sei riuscito a fare? Sono riuscito a collegarlo via Bluetooth. Mamma, che sei live. Mamma, tu mi senti? Mi puoi fare latte e caffè? Allora, comunque è bene. Anche a me, anche a me, anche a me. C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. Vabbè no, ma tu lo chiedo questo giro. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo. Ragazzi, mia madre non può farmi latte e caffè, corro io a farlo. Vieni. 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 Andiamo a ritreccio a masticare questa vecchia lontana. Vieni. Daletico. Siamo conviti e salutati e siamo ricordati in pista. C'è sembrato sempre grande questa cosa. No, ma non è un'occhiata. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in mano. Grazie a tutti. Come va? Come va? No quanti siamo? Buongiorno, Franci. Qualcuno può scrivere un commento dove sono state regalate delle sub e fissarlo in alto come moderatore? Siamo con un terzo, che è un random probabilmente. Sì, Carlos, dovevo rimetterla oggi. Sì, I don't know. Turquia, Turquia. No, 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 no. No, 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 no. Vabbè, così si la sta... Eh, ma che passo. Ma quest'arma, ragazzi, fa pena. È tutto fumo e niente arrotto, ragazzi, quest'arma. Tutto fumo e niente arrotto. Non potevano fare una cosa più oscena di quest'arma. Ma non perché io non la so usare. Perché come fai a capire dove stai sparando con tutto sto sparaflash? Sembra quando giocavo a Black Ops 1, Kino del Toten, che modificavo l'arma e sparava tutti i colori. Noi, Andrea. Noi. Noi, Andrea. Non c'è, ma non c'è. Fine scansione in uscita. Sono in due. Vai! Tutti salato 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 Madonna spinti non ti ricordi quel chilo a giocare su Bernas? Gente che vorrebbe... Raga gente gente andiamo... Bravissimo Andrea bravissimo Oh guardia sono ancora un altro Dormo Arrivo dal tetto Mi sparano Ah p***a Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, no, no, no. Noi, no, 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 no. Noi, no, 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 no. Domenico hanno adottato Rebirth per qualche giorno dovrebbero rimetterla oggi ma forse hanno allungato gli altri due giorni. E' vero Carlo Ha serenizzato molto bene la partita Vabbè ci rifaremo Comunque secondo voi Ho dormito o non ho dormito? Cosa è brutta Cosa è brutta? Chi è che è salato Partito Cosa? Ti ha dato fastidio Il demone Più grande di me Tutti noi Abbiamo un demone Se lo riusciamo a sentire La collera condizionata Buonanotte C'è un soldato nemico No ragazzi Zero 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 Sono qui solo per voi Quindi quale challenge Vogliono C'è un soldato nemico Alessandro Uomini e donne Ah no Andiamo a guinari Dai Dai Punti di raduno fissato Ritorno Indico un punto di lancio Per chi Ormai il gas è troppo vicino Alla zona sicura Sopra uno di noi Sopra Sopra uno di noi Sono tre Attenti eh Sono tre proprio Talent Win 500 Non ci credo Francesca è troppo dolce Però Francesca è troppo dolce Buongiorno Massimo Scusa Massimo Praticamente Siccome hanno scritto Tanti commenti Versi insieme Io La chat si scrolla Non è cattiveria Scusami Se Ti è sembrato tale Ma Non lo faccio mai Con cattiveria Mai 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 Ah Roby Di me parte Vi c'è un botto Eh Sono io contro il mondo Di me parte Di me parte Di me parte Vi c'è un soldato Nenico I mi parte Espevra Buon ragazzi attento andrea non venire qui va indietro scappa andrea scappa il ginocchio mi sto dissociando subito proprio non ci credo mi dissocio laura buongiorno cucciola ciao raga sono molto contenta mi fate compagnia qua un giorno mi rai perché il nag andrea Ma io neanche l'ho visto per quanto frame laggo Ragazzi, giuro Dovrei andare in gioco Però aspetta, questa non... Cioè vale da questa o dalla prossima? Dimmi tua Perché almeno dopo c'è anche Ale Quindi siamo tre sub Vabbè E' ancora finita I rinforzi sono in arrivo L'auto di equipaggiamento alleato Ho marcato dell'equipaggio a profigionamento marcato I'm going Ma try to move Ma non si può tenere sta arma nuova, porca troia Fa cagare l'arma nuova, ragazzi Meglio che non la raccolti Non riesco a tenerla Ma l'ho vinto Io pensavo che non faceva danni apposta Lo sobbiamo Andiamo a winery Contratto confermato Diamoci da male Cassa di scorte Dovete venire qui living Ciao Sara Mini se ci mancarebbe Sì, lo dici Ci va tutto il singolo Momo Tutto in your hand No, no, no La rimettono Michele Assolutamente Che fai scherzi Però sai Te la fanno un po' Aspettate C'è gente C'è gente Riusciamo Anche se è premilaggo Arrivo Arrivo Sì, l'ho vinto Sì 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 Stato Bombardamento di precisione Sì Sì arriva mamma mamma attento mamma di cosa hai bisogno mamma tini la corazza da prendere occhi aperti la finestra di ritorno sta per chiudersi tornati alla normalità movimento sempre più vicino mamma mia bravi io lo so che andrea resterà con me o io riavvio un attimo il gioco e alessandro ti invito ok anzi entriamo tutti in andrea riavvio il game perché sto faremo la guanda troppo quindi è giusto che io riavvio ok almeno riesco a avere degli fps più stabili perché così veramente sembra che sto trattorellando no 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 ok ragazzi è riavviato una settimana di caldero e fortune una settimana proprio wow wow ecco perché tutti i propri eros e fortune sono ok facciamo una challenge buongiorno ci conosciamo sì sì è proprio quello che sto pensando di fare ma in realtà è anche se sto io uguale ecco qui vai con fortune terzetto buongiorno buongiorno tutto il giorno che sono le 10 e 42 ragazzi ma facciamo un'altra oretta altre due tre ale ma quale quella che spara colorata no tragietta la mitaglietta che si sblocca al livello 21 no è una impressione michele melania allora non riusciamo manco siamo in quartetti se vuoi vieni a giocare che c'è un posto nell'antichità facevano la guerra con l'armi di star wars infatti andrea ma ti pinga la partita andrea ti pinga la partita venite da me vogliate venire da me no 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 se lo pinga gliela trova ora no 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 ieri non riusciva in quartieri non riusciva a fare buongiorno non riusciva in quartieri non riuscire in quartieri boongiorno non riuscire in quartieri ma tienne Brutton non riuscire in quartiere il contratto ma per i dov właśnie Yeah no a te innanzantemente i alt재 ma figlia da mia figlia ti mangio come il latte è bello ma che dici ma finisce bene a giocare ma le private quando è volevo fare stamattina ma da come vedo oggi mi sa che venerdà come perché guarda non è capito io tutta la mattina che gioco da solo in due perché non c'è nessuno manco per fa quartetti non è che tu dici vabbè c'è qualcuno siamo almeno in otto tutti a dormire saranno dai ragazzi abbiamo una challenge dobbiamo fare quindi la win lupo buongiorno ciao lupo buongiorno lupo lupo buongiorno lupo buongiorno privata se c'è qualcuno la per cento non l'ha fatto mamma stanno vedendo la privata mi stanno chiedendo in live a me la privata a che ora che carini ma dove andiamo raga a grotta vediamo se andiamo a 24 volentieri ragazzi uno a terra uno a terra alla tua sinistra attaccato alla tua sinistra Ale ti è arrestato eh no no Ale mi è spesso questo c'è pure mi è pure placato vado via vado via per non morire vai vai sono responata eccola è ancora finito a te tip più che altro fa ora appartieni a noi divuscia eh cazzo un po' un po' vedo buongiorno adesso ne ho già prendi guarda guarda cosa è cazzo cosa è cazzo non è capito ho ucciso un pranzo che cosa dimmi ah non c'era gente lancio 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 vado a farlo no raga uno a terra da me sono tre eh ah no vieni qua vieni qua vieni qua ma fra un po' le facciamo ragazzi ma le facciamo proviamo a farlo ah c'è i rebis nelle private penso proprio di no ragazzi c'ho cassa muni pure con voi arrivo c'è gente ragazzi cimitero full team andiamo andiamo a cimitero andiamo a cimitero oh sulla torre c'è gente è uno a terra sulla torre oh buongiorno raga non venite qua non venite qua non venite qua perchè sono due team ciao daniele buongiorno ciao daniele buongiorno no 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 lo sanno già sanno già tutto non andranno da no no aspetta un attimo che guardi c'è una challenge e poi dopo proviamo devo fare vincere la challenge vado a fare il lancio io secondo lancio va bene cerchi di prendere questa cassa oh c'è gente da me vado a fare la chiamata 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 c'è gente sotto di me roberto confuso ragazzo appena ucciso secondo me era veramente confuso andrea tu che ne pensi andiamo a pusciare quelli andrea non ti sentiamo di alzare il volume al massimo non ti sentiamo andrea ma tu parli ora sentire andrea poi a disturbo no il tuo il tuo il tuo minuto nell'impostazione audio di gioco va bene dove giro a sparare livello 14 base va vengo qui siamo la copri andrea parla perfetto anche io ti sento non uscire non uscire non uscire è traccato è traccato è traccato la pisa 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 il piastro un attimo che ha bisogno di piastra che ha bisogno di cassa il lancio barbino aveva anche se ne sono 27 lanci il tempo poi guardia autoressa non lo so bombi per me per me per me bombardamento imprecisione WIFINIX 3, attacchi in corso bombardamento, non vi alleato dategli la casa oi la verde ragazzi tutti qua sopra da me nessun nemico colpito autonomia UAV esaurita oltre aiutati reti tornati alle normalità il nemico attivo disturbatore radar alleato in funzione oh no oh no lo schifo oh stamattina è pure io no vabbè ciao quentin buongiorno bella lin ragazzi sono abbastanza concentrata beh che te lo fai questo è tuo fatti quello fermo bravissimo bravissimo così si gioca a call of duty cazzo prima le piastre si può andare all'oddy l'ho provato ma mi hanno sparato no no ci può andare un po' io sono andata all'oddy io rientro ciao 14.017,14 in colonna per 1.7 dai ragazzi se volete c'è un posto per giocare si si hanno tolto pure le private non ci credo ragazzi hanno tolto le private si ragazzi fate giocare ancora non so chi sia l'ostra penso a Andrea portarsi subito nella zona sicura qualcuno vado a vedere cavoli buongiorno allora per la bui del marguerra ragazzi punto esclamativo in chat punto esclamativo armaguerra vi esce ciao Luigi buongiorno comunque in chat vorremmo che Andrea vogliamo sentire la tua voce qui e poi riesca mette l'ansia tipo Francesca ma io parlavo prima ma che parli e parli che sei un ragazzo sempre timido no no prima parlavo cioè parlava quando noi dicevamo solamente non ci sentiamo eh lo so ma io cioè se muoio ogni due per tre cosa vi dico sono morto buongiorno ragazzi è arrivato vincenzo vincenzo non è più vincenzo è vincenzo eccolo vincenzo vincenzo per le mie ragazzi questa macchina è regalata riscattatele comunque sub stamattina dormite tutti e nessuno che vuole venire a giocare questo è me lo dovete spiegare solo io mi sono a svegliare sei per giocare con te madonna veramente buongiorno Umberto io mi sono svegliato alle sei e mezzo no alle sette quando mia moglie è andata a lavoro ho detto mi devo riaddormentare per forza perché sennò mi sono svegliato adesso ragazzi la build punto esclamativo arma guerra vi esce la build no alle sette quando mi sono svegliato Come stai vincendo il caffè? Dona cap! veramente bello il campeggio ragazzi ci siamo? bella Cristian grazie per il like buongiorno ciao Umberto e dai con questi like let's go vai vai ci siamo e discendiamo la raga l'obiettivo non sono le kill sono la win adesso andiamo qui ma secondo me brischiamo dare ecco dai uno fuori staccato con la lega veniva e l'ho sparato fuori non ho più nessun amico nel gioco è sempre di me andrea come va? mira no vengono vengono super mi coraggio attivo bravissimi dai dietro di me ci cercamo vicenda sulla chiesa odio odio l'ho guarda ragazzi a milo di datemi i soldi venite qui da me vieni andrea venite ah io arrivo sono lontano andrea questi non bastano parlo guardi vediamo qui e hanno fatto due arriva di un altro tempo le armi siete attenti che a marcos bene grazie per il like buongiorno come spam di stickers non lo facciamo di selline mannate c'è gente avete bisogno di piastre io non c'ero io le prese andrea non andiamo veneri vieni vieni siamo di qua è l'utato ragazzi qui facciamo i soldi di fronte un puntino mi hanno visto perdone non lo vedi oh da dietro graffalo da me graffalo da me l'ho detto mamma mia vabbè c'è la fase dai grazie la di 50 terra mai trovo rimani in volo tu Andrea un po' puoi andare all'olio dai ragazzi siamo ancora tutti purtini cioè e lo vedi bingo eccolo l'uno due e tre eh quanti sono qua e tre zio c'è uno guarda guardi eccolo tieni un altro fin grosso tieni un altro mi sparano bravo non ho armi vieni qua queste sono fottute le mie sono arrivato un nemico o un nel zero dove è? oh uno in volo si una qua cos'è delle armi vabbè compro le piastre qua c'è l'altra nuova si no no vabbè però dai no 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 da sopra sono safe perchè il bot mi ha cecchinato è il botto? no puscia a destra muoio muoio no 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 lascia perdere muori muori non sei morto ti puscia a destra sotto il mare sta fermo però non ti sta pusciando uno è sopra le rocce davanti a noi io a sinistra arrivo ragazzi arrivo Roberta sta arrivando raga andiamo qua sotto arriva arriva ma dai vuoi certissimo attenti eh è un pull team sotto devo pingato sotto winery minchia potete comprarvi le piastre magari ma non so se c'è gente lì allo shop ciao marilisa carmela grazie per il life ragazzi umberto cuomo non vedo l'intervino aspetta aspetta non andare non andare andrea no cazzo quello dietro ce l'avevi scaccato dai dai facciamo gioco ancora no no noi tre anzi esci un attimo va bene vincenzo passa un buon weekend allora no esci esci proprio da qui mi piace la b non mi fa fare niente il cerchio manco ok mi cerco mai like mi piace la b non mi metto il cerchio ma io lo tolgo oh fa il bravo ma lo so moriva ah va bene Quentin noi ci siamo voglia siamo in tre lo faccio questo? no no vado a fare plin plin l'ha trovata la partita arriva subito che c'è il creo eventui buona errese Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, ciao Matteo. Sento l'ego, Andrea. Delle casse, proprio dell'audio, del tuo audio di gioco. Ancora cinquanta, un'altra metà strada. Fate piazza pulita dei bersagli. Ragazzi, è successo un casino, qua c'è troppa gente, tipo. Ancora cinquanta. Conciuta... Dammi uno. Fingato, sono un set. Però questo è l'ultimo tentativo, in casa mi piacerebbe farlo anche in quartetti. Puoi tornare in campo, stavolta non sbagliare. Ancora cinquanta. Ancora cinquanta. Andiamo a fare l'altro. Oh no, non ce l'abbiamo quella, c'è? Che miracolino. Mi hanno bussato in diciassette, non in uno, in due. Non lo so Stefano, sai perché io non la uso così. Io lascio fare da sé la maschera. Non ho quell'opzione che te la inserisci tu, ecco. Non ci trovo. Sul mio letto ci sono le pizzette. Ciao Massimo, buongiorno. Arrivo ragazzi. Lì ce ne sono due. Facciamo il letto, che è niale. Vengo, vengo a fare il lancio dietro. Bombardati. Vieni, vieni a fare il lancio. Non c'è più il shop, porco. Vieni, vieni. Non c'è più il bambino. Vabbè, usciamoci, ragazzi. Da me uno, l'altro a terra. Eh, mi dicevi non c'è più il lancio. Te l'ho pinglato. No, il lancio non ce lo shop, ciao. Rimane l'uno. No, non l'altro. Ah, ok. Laura Serra, attenzione, buongiorno. Ciao Marco, grazie per l'altro. Arrivo da voi, ragazzi. Prova andare all'oddy, anzi, vedo com'è. Come l'oddy? Andrei, sento l'audio del tuo gioco proprio. Il gioco sento, non è tanto che... Meglio così. Sentite ancora? Oh, dietro di me, dietro di me. In alto? Dov'è? Qui, qui, qui sotto. Eh, qui. Ci dame uno. Bravissimo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Staccato. Ma devi metterla a cercare me la conta, ma... Nicola! Tienesca. Corazza da prendere. Tua fine, Mico, attivo. Staccato, intira a tu. Staccato. Allora, o grossiamo più mo' o non ci grossiamo più? Ma dov'è grossi, scusami? Oh no! Arratti di rompere l'organo, pizzi di chiudere. Alla dietro di me, sale, sale! No In due Ah in due Andrea Andrea ascoltali E' tutto nella tua mano Andrea Sei tu e tu Non ti preoccupare di niente Andrea Sii forte Comunque vada Devi sempre chiedere in te stesso Tu sei la base di ogni cosa Prendi la taglia Lancia fuori Io l'ho preso il lancio ragazzi Raga In più i batti winneri che entrano Peccato Eh uno l'ho fatto ma l'altro mi ha fatto Quindi alla fine tutti i fatti siete Praticamente si Praticamente tutti i fatti Ciao Luca Bella Nicola buongiorno Davide Pagano attenzione Guarda questo dov'è Un secondo Roberto a saper rispondere è più forte di prima Oh abbiamo il log di Ale Riesci a venire qua? Oh fattolo Hanno fatto il log di Ale Hanno fatto il log di Ale? Eh lo so lo so Non è il secondo Tra l'altro Mi cederemo in volo Raga facciamo il log di Ti prego Soldi 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 Tieni No no Mi noccano perché sono troppo Guarda c'è la cassa Castra Andiamo da loro raga Andiamo subito Subito Da dietro Da dietro Mi piacerebbe La torre c'è gente Non li vedo Attacco aereo qui Un bombardamento di precisione Qui finish 3 Sei sola lì eh Sei sola Un attimo vedendo prima di questa Sottotiro Arriva arriva L'ultima Dove? Qua sopra la scala Dove? Sopra Sì Sopra 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 Ovviamente Per la scala Ci sei io No è sopra 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 Hai bisogno di piastre Anche bisogno di piastre Andate a piastre Tieni Sopra 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 Salire Salire Si sta arrestando Si sta arrestando Si sta arrestando È fuori Bravo Bravo Che si interessa subito Ci sono io Ho favore Che c'è ora è sul tetto che cazzo è sotto è sotto ragà nessun nato di assunato per ma non vedo niente si rivede il video tenete per oggi la moglie anche un coltellino in faccia ragazzi siamo 3.3 e no ragazzi non vado mai a buttare l'abbiamo vinta questa l'abbiamo vinta per francesca con l'ultima clinica mamma mia ragazzi quando ti fessano sembra di essere in paradiso mamma mia sembra di essere veramente in paradiso let's go ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto daniele adesso l'ultimo l'ultimo madonna mi sto senti male ragazzi andrea andrea colletta 4 kill oh ragazzi cioè io ho le stelle ok le 500 per la win ma io dare le stelle per l'impegno di andrea e da zero oh ma ci rendiamo conto nice andrea complimenti grazie vai pusciamo che prendiamo quentin va bene complimenti complimenti ahhh addirittura daniele guarda te lo giuro già che hai pensato una cosa del genere sono tipo straonorata non posso chiedere di meglio allora quentin io non ti vedo online se vuoi invitami tu oppure entra su da me e io pure ma non lo vedo eccolo eccolo hai il bpn quentin buongiorno no no ok vai sentiamo ragazzi mi ha carriato ragazzi lo so che andrea mi ha carriato non sto scherzando a gg però avete visto che giocata abbiamo fatto lì per prenderci la torre bellissima mi è piaciuto un sacco mi piace il lavoro di squadra a fine safe ragazzi serve sempre endgame niente da fare anche per me non era facile comunque no no stanno sopra così io mi son buttato perchè comunque se li distraevo anche se mi washouttavano c'avevo la siringa per quando scendevo e la maschera e stavo abbastanza messo bene quindi ho detto loro stanno sopra daniele grazie per il like non abbiamo visto se ci sono ho fatto anche la clip ragazzi probabilmente a francesca si sarà aperta pure la win perchè non c'è in chat peccato è stata una bella win sudata eh io precisare a francesca che questa win è stata sudata se non lo so a me la mia famiglia le polere che si venne i cinza ragazzi la partita della pinga? si si ok quentì non lo sento io quentì ne timido ragazzi se non te la cera in pace Antonio buongiorno grazie per il like mi sa che fa di nuovo male l'h4 lo sai 20 sentite ok ragazzi buongiorno su Rai2 mi saluti Goffo? Goffo ti salutano in chat chi ha vingato lì? no 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 ragazzi andiamo sul cimitero anzi passiamo a Winery perchè non a farci un bel bicchiere qui ha vingato a chi ha vingato a fu nio Altri Tieni guenti, non viaccio Uno, certamente Sono io Non c'ho cazzo Altri Ho due Bravissimi ragazzi, bravi 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 Arrivo Una terra, l'altra manca Ho fatto pure l'altra Oh no, ce n'è rimasto Stavo che erano tutti a terra io Dopo, buongiorno Raga, passi da sotto Sopra, sopra, sulle scale Quanti 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 Quella Peppa Peppa Pig Peppa Pig Mi spara dalla torretta di fronte Quanti 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 Bravi 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 Mamma mia Ma è arrivato Ragazzi Ragazzi abbiamo il Lodi Credita Ti buscano È salito È salito È salito Qua dai miei ragazzi No, no, qui qui Ed andate a Andrea È dietro di te Andrea dietro di te Ma dai È qua dietro la porta Ma No way No way Non è morto No way Prova tutta la vita Mangiara Franky Come va? Senti Adriana Franky La challenge L'avevo vinta Infatti mi dispiace Che non l'hai vista Abbiamo fatto una winner Pazzesca Vieni da fare il lancio? Vieni da fare il lancio? Ti lascio i soldi? Sì sì il lancio è sceso Vieni al lancio Non ci sono veramente Ma non lo parlo Sono due Ho plegato Aspetta Guarda mi fa quel lancio o qui? Sto passando ora Mannaggia oh beasts Che mi capita di passare Di più Grazie No C'è una corazza da prendere Ragazzi c'è gente qua Che mi dà ci i soldi fatemi avvi Ok bro Facciamoci questi ragazzi Facciamoci questi per favore All'elio Aterra, aterra El No Merda Lo scoccirà può fare Chi sono? Non avevo Muni Non avevo Muni No way Oh Francesca Grazie per le 500 Thank you Grazie mille Per la challenge soprattutto Grazie davvero di cuore Ciao Ciao Diciamo Frank Grazie mille Siamo unita per forza Tempolo della squadra in rientro Ragazzi Abbiamo quasi il Lodi Perché non lo facciamo? Ragazzi abbiamo quasi il Lodi Perché non lo facciamo? Sono lì A terra Il Lodi Lo faccio io Oh no 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 ragazzi gg per francesca ma ce ne andiamo conto franchi tu come sei bene buongiorno francesca una matta gigi va il gofo no gofo no tiktoker che no abbiamo o i miei vari di motivi ragazzi poi c'è un'altra challenge secondo i quartetti senti adren perchè non ti apri un profilo tiktok e flexi la pombo da ps4 che ne pensi sarebbe top quasi quasi un figlio definitivo che va chi dice gg per gofo l'ha detto chopper io 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 sempre cip sempre cip ragazzi mancano a 350 stelle a 1k prendiamo conto io non le ho le stelle veramente hanno bannato basta gg per andare a colletta bravo anche lo penso comunque gg per andare a colletta che sono le persone colletta dice di no colletta non parla colletta è timido e per pochi lasciatola in pace insomma per chi merita per chi merita beh a rubare colletta hanno scritto in chat andrei provo a uscire e rientrare una volta c'era ragazzi c'era alessandro praticamente era crasciato ma vabbè era appena mattina non so se dire crasciato o cascato cioè non lo so se ne esce ragazzi sono crascato sono crascato ciao pedro una via di mezzo va bene ciao ecco lento arriva sta arrivando eh si mo l'ho acceso adesso perché sento caldo adesso l'ho acceso eh addirittura si si chiamava chi la finestra si era condizionata ah l'ho trovata raga dopo quindici mesi l'ho trovata sapete perché perché io tendo a non usare l'aria condizionata ma dopo un po' è qui la scoteca let's go non ci credo ragazzi grazie e lui si è in chat lui si è in chat che si scerde le nabbe ah comunque se ne è qui tranqui grazie per la condivisione e vabbè e vabbè ecco qua poi le 50 e non facciamo partire il partiva per chi non la sa luis sei troppo gentile grazie per le 50 per le 100 attiva un po di stelle ragazzi ragazzi attenzione c'è fare adesso adesso o mai più oppure guarda veramente stacchiamo tutto qua ma ve lo dico se volete oggi domenica stacchiamo tutto da un altro domenica ragazzi andiamo dove andiamo andiamo winery lui se mi devi dire come stai voglio un tuo saluto voglio ti voglio sentire probabilmente non perché non mi preoccupo io no raga andiamo al cimitero scusate non non avevo visto la linea da si è andata e ci sono tre team sono tutti scesi non esistilo meglio c'è anche mia zia lì guarda qualcuno che fa rumore con le cuffie are and Kampf45 non ha fatto roba le face confianti sono 6 home andrea sono qui stesso all'ombra sotto l'ombrellone ragazzi cosa fai qua devi morire male mori male andrea che scorso ragazzo c'è il porto di stazione ragazzi votano due minuti dai ragazzi con queste parti non è vero non è vero arrivo no ragazzi è morto quella grandissima mamma mia raga non venite qua non venite qua sono tipo 4 che sono tutti ultimi arrivo frankie fatto la sabbia raga sono tutti allo shop qui ce li dobbiamo fa uno qua bersaglio è vero è vero Sì ragazze cimitero stessi facciamo la b venire venire lo shop venite ragazzi prendiamo il jumper qua raga vado qua mamma mia vanno cazzo da winery attenti che da winery vi fanno raga c'è una cassa con gli armi sono contenta che l'hai fatta faccio di serpente noti non lo stai non è un baggio non lo stai non lo stai E vai poi, troppo, livello che lo so fatte ragazzi Sì sì Scrivello 1, va Mamma mia raga, sono troppi, non venite qua che sono troppi Ce ne sono tipo una miriade Filippo Putignano, attenzione Buonasera L'hai vista, a destra? Ti è buttato Arrivo 1 a 14 Ho un contatto C'è una cassa di scopi Andate a parte Passi in arrivo, c'è una nuova zona sicura Dov'è raga? Eh, lì è spettino C'è un soldato nevito Date 1 a l'entra Da me c'è gente Mannaggia No, la dintro, quel c'ha torto Mai l'avrà vista sto scemo Eh, ne è solo uno, ne è solo uno Mizzica Attenzione Aprete la cassa Venga, lì c'è una cassa Arrivo No, Michele è bella Scusate Quanti soldi Scusate Scusate Non fatte E c'è il ballone Facciamo il lancio Mi dà i soldi Eh, i soldi, i soldi Quella è la destinazione L'auto di equipaggiamento per voi Un tratto fallito Venditore marcado 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 Potenza Niente secondi occasioni Alla nuova zona sicura E cosa è il ballone? Uno qua Il nemico è qui Bombardamento di precisione alleato Attenzione Vado a prese il ballone Vieni, vieni, vieni qua C'è il ballone Eccolo ragazzi, eccolo Uno Buongiorno Buongiorno Adore Vedete tutti i ping? Qui c'è un ballone se lo volete Ok Questo poverà quasi a girare No, bravo, questo qua ci interzia, è impossibile Sto safe, sto safe Super 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 it ako Ai sei E' bene Che sarò io Come fa salire? Vengo io Compriamo le piastre, avete i soldi? Quanti Ce la ce la lascio io Quelle due qua Dimenticate quello che ho detto Raga a destra La vostra destra La gente che che crossa Vabbè non fa niente di questo È raga ok Guarda me guarda me Guarda me Guarda me guarda me guarda me guarda Eccolo qua Vabbè È attaccadissimo Mannaggia Sono safe qua Sono due Eccolo Mamma mia fortissima Uno contro uno E' da queste parti Vediamoci qui Non importa Ma è vero Cosa fa fare di là Mamma mia Ma chi è John Wayne Ragazzi John Wayne Avevamo contro Comunque gli ultimi Mi trovo sempre pro player Non so perché Bello il cecchino Lo stesso colore della stanza Dove Mi piace Non è un cecchino Comunque Stavate Oh bella Simo Alla prossima Grazie a te Per essere passato Comunque Lobby ciooste Sono senza VPN io Ora ti dico le lobby ok Sono io host Eh sì sì Eh vabbè ma Io quanti ne abbiamo Un bel KD Forse pure Ale L'ultima lobby 1,17 1,20 1,17 1,30 Ragà Le lobby di prima 1,12 1,17 1,30 1,17 Tu forse lo stats Giusto? Sì sì No Cotto tra Sì Praticamente Non è tutto L'1,15 Ci rendiamo conto Se già se respiro In game È già tanto Allora Quindi l'abbiamo fatta Oh la mia La win Che abbiamo fatto Prima Ho fatto 1,33 Di KD Ho L'hai visto? Il resto Ho fatto schifo Però Vabbè Quella win Che abbiamo fatto Il KD È 91 Il KD Mio È 1,41 Il 2,08 Vabbè Ma tu sei una namba Lo so Ma dai Ma dai citta Comunque una volta ho citato Però sto aspettando Sto aspettando la conferma Che vi do Ragazzi Ti ammetto una cosa Una volta ho citato E praticamente Ho scoperto Che Anche con la monitor camera Che non si vede niente La vede? Perché Perché Scacci il pulsantino No Lo metti prima dai streaming Che fai? C'è tipo Un Non so Un Una box Tipo un quadratino Che tu metti Io dico Non dico il one luck Perché il one luck Si vede sul monitor Io ti parlo Della mira Della mira Ma non palese Quella minima Dove tu non te la accorgi Per niente Soft Softame Si chiama E praticamente Non si vede In nessun modo Manco Con Con gestione Attività Vabbè ho visto i video Su youtube Sono cose Sono cose fatte Bene Ho visto i video su youtube E una volta ho parlato Con delta Praticamente Non so se conoscete Delta Il cheater E mi ha detto Che lui Va in giro A giocare La conosce Praticamente Ascoltate Questo va in giro Città palese E ogni fine game Ascoltate Ogni fine game Che fa Riceve messaggi Perché le persone Mi chiedono Dove comprare i cheat Ma vi rendete conto È tipo un business Di tutto sono Che c'è un mondo dietro Comunque Quando ho detto Una volta A città Di ragazze Che c'è un mondo dietro Che c'è un mondo dietro Una volta A città Sembra tipo che sono Un reparto alcolista Anonimi Sì ragazzi Lo ammetto Ragazzi Devo ammetterlo Una volta Ragazzi È successo Vi aspetto Qualcuno Di compra Andrea Ma Andrea Non ha bisogno Di queste cose Andrea È nettamente Superiore Saludiano No no Non ne ho bisogno Io Mi tengo il mio KT Ritorno Tutti nella zona sicura Si avvicina rapidamente Sopravvivete Per far rientrare I compagni uccidi Ottenete punti Con le vostre azioni Per farle tornare Mio in fretta La priorità È riscrivere Tutti i nemici Sopravvivete Per far rientrare I compagni uccidi Ottenete punti con le vostre azioni Per farle tornare Sopravvivete 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 Ragazzi è un full team Qui Va bene Andrea Possiamo fare il gioco Alcora Inston Buon torno Ciao Lori La colpa Comunque è tutta Di Alessandro No Ho sbagliato Io Ho sbagliato Io No no Fidati Fai gioca ancora Fai gioca ancora Ma ti assicuro Che la colpa È di Alessandro Sì è la colpa Ve lo giuro Ragazzi Come sai Che ti sento Tutto bene O no Cioè Stai meglio Guarda Quello che sto Mandando sul gruppo Io con Hai ragione Tu Ci attraverso Ci attraverso Sono crashato Ah ragazzi Siamo crashati tutti Sì sì Vi invito Ragazzi Ma sei uscita tu No Siamo crashati tutti Andrea Sono crashati Siamo crashati tutti Ragazzi Oh vi ricordo che sto stando io E ora sono cavoli amari No Mo troviamo Mo troviamo Lobby 010 029 La lobby La lobby più bassa che ho trovato in vita mia è 050 No 060 No 060 Il KD in 7 giorni è 1,41 Il mio è 1,15 Ma quello di Andrea è basso Lo sai quanto è quello di Andrea è il KD? No non dirlo No non dirlo No non dirlo Secondo te Secondo te? No no secondo te Non dirlo Non dirlo Non dirlo Non dirlo Meno di 0 0,50 Di meno Di meno 0,22 Eh vabbè dai Tutti abbiamo iniziato Tutti abbiamo iniziato così Dai Quindi è aumentato eh Perché sono arrivato Bravo Andrea Così ti vogliamo noi cazzo Prima ha fatto 4 kill Ora si è fatto il pad nuovo Si è comprata la skin nuova ragazzi Da 007 Perché adesso C'è un nuovo inizio per Andrea No io ho appena iniziato Per quello Non è che Non ho mai giocato Da fischio Però ho un paio di mesi Che ho iniziato Bravissimo Bravo Colpa di Roberta Ma dai Io sono brava Poi Robin ha detto Vieni gioca con me Lei è 7 di KD E figura che io Cosa posso fare Vabbè c'è uno negli amici Che c'è la 0,16 Veramente Dico la verità Adesso Ultimamente Sto facendo qualcosa meglio Più alle tempo Amico in arrivo nell'area A Milan Buongiorno Bello Alessio Buongiorno Ragazzi allora Ok Cosa Aspetta che ora Non ti sento Che c'è un casino Buongiorno Camilla Dimmi Rebirth Quando torno Ah Ti vogliono fare due giorni Ritorno Attenzione al gas Andate nella zona sicura Sopravvivete per farvi entrare i compagni acquisti Potrete punti con le vostre azioni Per farvi tornare più in freddo Guardate piazza pulita No Eh raga un casino Andrese l'ultimo 20 secondi Camperà un secondo Certo Un bravissimo camperare No guarda davanti Non guardare lì Sto guardando l'orologio Bravo Sono due trascati Andiamo qui Andiamo Col team E qua Hanno fatto il lot di Tutti Intero Vado qui Raga C'è gente Nice Faccio il lot di Raga Tieni i soldi Fatti le piastre Usciamo questi qua sopra ragazzi Appena avete fatto Non posso farmene le piastre C'è gente C'è gente Tutte le montagne Le lacrime Tutte 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 Da me Da me Ragazzi In Milano c'è un pull team Fra zombie Non si capisce niente Ma ciao Poschi Va bene Francesco Ma io stacco Fra poco Perché sono molto stanca Camperino Andrea Sei l'ultimo Come sempre Ciao Mattia Come stai Vedo tanto che non ti sento Non ti sento Noo ma ti alucine Putain qu'est ce qu'il fia là ? mannaggia come si è morto tra mi ha preso il grazzo siamo tutti morti raga ciao maria sono un uomo come funziona ti spiego di tutto mattia foschi non diciamo così così che chino per terra mamma mia ragazze fino a qua raga lo doubt no lo doubt no quindici secondi bisogna camperamo ciao benvenuti mattia grazie no camilla senza sabino regalate già cinque controllate le notifiche no 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 la cattura appena rientra rinascolto catturato la catturata pagina oh mio dio andrà davanti a te eeeh che arma di merda dai facciamoci l'ultimina che stacco che sono in live da 4 ma avete visto in che lobby siamo finiti avete visto dopo le 11 cose sono le lobby allora Maria qui non è che puoi scrivere quello che vuoi ti spiego qui praticamente sono delle streaming cioè delle live intrattenimento diciamo per quanto riguarda l'ambito dei videogiochi ok e noi portiamo principalmente un videogioco di guerra si chiama Call of Duty che è questo che vedi quindi alla fine si puoi parlare anche di altri argomenti se puoi tranquillamente l'importante è non cacciare argomenti strani commenti insomma diciamo di attentati di razzismo niente razzismo tranquilli cioè proprio nel chilling eh magari mattia sarebbe anche ora cioè non so quanti anni sono passati due e mezzo va bene ragazzi Andrea dissociamoci da Andrea allora Maria di dove sei? io sempre sono abruzzese il mio ragazzo è di Messina preparate l'attrezzatura ma che fai zio? è un soldato che mi trova meno male a Camilla dice meno male che c'è Andrea è un soldato che mi trova esatto ragazzi intanto ci ha provato tanto ci ha provato però non ha detto Messina no è arrivato un nemico attenzione zizzera zizzera stiamo vicini guarda sono qua come io ecco eccolo hai visto? guarda il destino il destino svizzera attenzione siamo vicissimi ragazzi mancano 24 like ai 200 dai eh per chi non ha messo like Ritorno Unita al punto di lancio per i cittadini Il gas è troppo pericoloso Correte verso una zona sicura Ora mi vedo per salvare i compagni ucili Ottenete punti con le vostre azioni Per farle tornare più in fretta Uccidete tutti Questa è un placchier Oh mi hanno flashato E' inizio in arrivo nell'auto Ultimi 50 Un'imito 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 Mi troppo forte Mi acqua Probabilmente Un'imito Ontardo Un'imito 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 io bella cristiana buonasera ragazzi vado qui allo shop che c'è un team aspetta prendermi il lancio devo fare il nikita quando di a sinistra io lo sto usando ogni vita ritrovo non devo fare da vicino credimi quello che trova a terra fa bombardamento di precisione alleato attenzione si si l'ho fatta mattia a terra ma che gente ma perché prima c'era venire di qua poteremo di lato di raga diglielo 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 ma fa fare un'ora di strada grazie per cosa no no infatti sono sconvolta perché mi hai imparato il culo così è morto questo bombi mamma mia veramente perché sono zitta perché veramente di fronte di fronte alle ragazzo a un altro un altro a destra quanti non ci credo pure christian e svizzera attenzione andrea mi dispiace mi dispiace che c'è un ragazzo che è svizzera addirittura cristiana aspetta sto giocando aspetta un attimo ragazzo che c'è nessuno andiamo via andiamo via d'acqua ragazzo qualcuno ha un ballone chiuso a prendere i soldi? no ci sentiamo che fa andiamo andiamo a pinga viola super mi chieni pro è qua ballone andiamo a pinga viola e un sacco fuori c'è il il lancio se vi serve è stato un sacco graffo ma la macchina la macchina dietro oggi è? dietro oggi è? è stato un sacco è stato un sacco è stato un sacco è stato un sacco Ma porco cane Tutto Eh? Che cosa? Eh boh questo mi puzza ragazzi Cioè volevo non lo avvio oppure Una cosa troppo strana è successo 100% Svizzero Grande Christian Let's move Oh 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 Come va andare qua Ma non c'è nessuno Stavo cercando due piastre Raga qua vieni vieni Andre Ho fatto di me uno Io Adesso 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 Geremy Adesso 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 Di ah 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 ragazzi non sopra di me sono tra le da solo non sopra ah 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 ma c'è soldi per il s ah mi ha messo a terra dimmi se pusha dimmi se pusha dimmi se pusha dimmi se pusha che gente lo sciò eccolo qua eh ma non ah 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 eccolo qua dietro camperato quanti andrea uno era dietro bancone la faccio andare all'accelità no vabbè rava in volo da sopra che schifo della maschera no 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 alla adrenalina davanti butta sotto no mamma mia riavano spappolato come le prezzi ragazzi anche io stacco che sono stanchissima buon appetito grazie per la compagnia mattutina ciao ragazzi fate buon pranzo ciao ok ragazzi io vi saluto vi mando un bacino fate buon pranzo e grazie per la compagnia comunque ma voi tutti svizzeri siete fatemi capire alla fine siete usciti tutti svizzeri buongiorno ragazzi io vi mando un bacio fate buon pranzo vi saluto ciao ciao camilla ciao ragazzi ciao 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 ciao